Il mondo ebbe inizio per un peccato di gola. Nice Gelaterie, piazza Zaleuco, marina di Gioiosa Ionica. In grosso e dettaglio, Mammola Funghi, infoline 320-232-4501, www.mammolafunghi.it. Gusto a volontà. E' un amore davvero, se sai dipingerlo tu. Inventi le mie forme, lo stile è quello tuo. Posso per ore davanti a te, mi dipingi di sole anche se non c'è. A un tratto trovo me, trovo me. Inventi quei colori, le ombre su di me. Poi chiudo gli occhi sul nome mio, quel che inventi lo sogni, son sempre io. Mi sento dentro te. Spesso e volentieri quando un congiunto parla o scrive di un altro congiunto, potrebbe apparire banale, come se fosse facile scrivere del proprio padre senza lasciarsi andare in facili strizzate di cuore o affettuose carezze sussurrate a penna o a voce. Leggendo quanto ha scritto Ernesta, figlia di Romolo, mi ha così affascinato che ho voluto far conoscere a voi di piccole storie parte di quanto ha saputo sussurrare e urlare Ernesta. Domenica, 17 gennaio 2010. Mi presento mio padre, Romolo Mara, inventore, e sua moglie, Teresa, mia madre. Donna intelligente che è stata in grado di sopportare un marito dal carattere non facile. Un uomo che è capace di grandi slanci ma anche di grandi introversioni, perso dietro le sue visioni. Solo l'amore vero può accettare e superare tante difficoltà. La mia infanzia e la mia adolescenza sono state non comuni a contatto con un padre straordinario e ingegnoso spesso con la testa tra le nuvole ma sempre attento ai bisogni della sua famiglia e dei suoi scolari e di tutti coloro che gli stanno accanto. Come è stato suo padre, Francesco Attilio, mio nonno, l'autore di tanti libri tra cui Le memorie nei paesi del terremoto. Ricordo da sempre mio padre intento a strumentariare con qualche aggeggio i suoi esperimenti effettuati con i mezzi più strani. Ricordo che armeggiava con i buffet di casa per togliere l'aria dai cassetti per il brevetto sulla liofilizzazione della frutta. I miei ricordi al proposito partono da che io avevo circa 5 o 6 anni. Una grande caldaglia di stagno dove faceva navigare un modellino di nave e lo faceva virare con un rudimentale telecomando o le cebbie, le vaschediciamento dove letteralmente faceva volare a pelo d'acqua gli aliscafini da lui costruiti o modificati da giocattoli e le rotaie dove veloci scorrevano i trenini e tanti altri strani oggetti. Usava a volte i nostri stessi giocattoli, suscitando la nostra grande meraviglia. Se fosse accaduto oggi qualche associazione tipo Telefono Rosso lo avrebbe accusato di sfruttamento balocchi altrui, maltrattamento ai minori. Per noi bambini era un gioco divertente e misterioso e lui ci faceva partecipare sempre. Giocava con noi figli e con i nostri compagnucci di scuola. Ci ha insegnato quanto incredibile sia la armonia dell'universo. Mi ricordo le serate d'estate sulla grande terrazza di casa sotto il monte al paese quando ci faceva volgere gli occhi al cielo stellato e ci indicava le costellazioni. O ci faceva rimanere col fiato sospeso quando inventava storie di mamma e papà, orsi nel bosco. O ci raccontava i romanzi di Giulio Verne, lunghe serate davanti al caminetto. O quando ci prendeva per mano chiudendo un cerchio e ci faceva sentire la corrente elettrica da pochi volt di una dinamo che lui attivava tirando una cordicella. Quando ci costruiva il monopattino e giocava con noi altri ragazzini delle scuole elementari. Eravamo verso la fine degli anni 50. La televisione si stava affacciando allora nei nostri paesi e non era propria ancora di casa. Il professore Romulo Marando è autore di invenzioni eccezionali, brevettate come purtroppo spesso avviene nel tempo, riscoperte e utilizzate da altri. Quando trascorso il tempo regolamentare per il copyright, i brevetti possono essere copiati e commercializzati. Mio padre ha vissuto e vive nel mondo magico delle idee. Non ha praticamente ricavato una lira delle sue invenzioni, altri si sono arricchiti con i suoi brevetti. Comunque la parte più preziosa è la sua capacità creativa che non è monetizzabile e non potrà mai essergli derubata. Gli appartiene per sempre. Il denaro ha una sua indiscutibile importanza per l'autonomia della vita, ma per mio padre ha sempre comunque occupato un'importanza molto relativa rispetto al valore e all'attrazione per la ricerca e la scoperta di nuovi orizzonti. Non è proprio facile stare accanto ad un uomo così particolare. Onore al merito a mia madre, Donna Teresina, che da quasi 60 anni sta al suo fianco. apportando il suo contributo con intelligenza, equilibrio e un poco di ironia e anche molta pazienza. Si può obiettare che io stia scrivendo con l'affetto indulgente di una figlia, ma non è così. Il mio dire, oltre che all'amorevolezza per mio padre, è sostenuto e avvallato da fatti oggettivi e documenti. Amici di Piccole Storie, ben trovati. Un altro appuntamento particolarmente importante perché ci troviamo in compagnia, ci troveremo meglio da qui a pochi in compagnia di una persona straordinaria. Straordinaria perché? Perché ha inventato cose straordinarie. e calabrese come noi, vive nel Regino e davvero pochi sanno, per esempio, che le scarpe Geox, quelle a riazione, sono nate qui a Ferruzzano. E adesso vi faccio conoscere Romolo Marando. Ciao, ben trovato. Siamo su una terrazza bellissima intanto, di fronte al mare Ioni, non è che è il mare che vi ha ispirato tanto. No, io generalmente mi piacevano certe cose, per cui riuscivo a costruirle. Io facevo prima il prototipo di qualunque brevetto io abbia fatto, facevo sempre prima il prototipo per vedere se funzionava o meno e poi facevo la descrizione, lo presentavo e mi veniva rilasciato il brevetto. Questo per quanto riguarda la storia, io parlavo di questo luogo fantastico, no? Siamo vicinissimi a Capobruzzano. È un luogo incantevole, vento che soffia in continuazione, sefiro che arriva fin qui. Lei è una terrazza bellissima che si sporge qui sul mare Ionio. È un luogo, come dire, di ispirazione, non solo poetica, ma anche per chi deve pensare alcune cose importanti. Adesso noi andremo, come dire, ad analizzare e a capire cosa ha inventato. Intanto, lei è un figlio di un'altra persona illustre, perché è una persona che ha scritto un qualcosa di particolare. Il mio padre. Ecco, l'unico testimone di quel fatto, quell'episodio terribile che si è verificato qui a Ferruzzano. Si chiamava come? Francesco Attilio Marando. Lei invece è Romolo. Io sono Romolo. Lei è il primo genito. No, sono uno degli ultimi. Allora le famiglie erano numerose. Quanti fratelli eravate? Eravamo quattro fratelli e tre sorelle. Quindi sette figli. Sì, siamo rimasti in due. Io e mio fratello, che è più piccolo di me, di qualche anno. Maggiro che lei è pensionato, giusto? Sì. E la vita che ha fatto? Io ho insegnato sempre. Ho insegnato all'inizio delle scuole elementari. Poi sono stato per un certo periodo al liceo scientifico, insegnavo storia e filosofia e poi gli ultimi 23 anni li ho trascorsi a bianco insegnando lettere alla scuola media. Senta, le è capitato ai suoi alunni di parlarne delle sue invenzioni? No, però io pur insegnando lettere ai ragazzi insegnavo certe cose. Per esempio cosa? Hanno costruito una radiolina, hanno costruito un razzo. erano molto contenti. Molti di loro, quando mi incontrano, io non li conosco più, vengono a salutarmi, ricordano con piacere i tempi passati. Siccome lei ha avuto a che fare con il mondo della scuola e quindi con i ragazzi, ha mai imbattato qualcosa specifico per i ragazzi o no? No, niente, per i ragazzi specificamente no. Ma cominciamo dall'inizio, dalla sua prima invenzione. Cosa è stato? E ricordo questo, che mio padre era farmacista, il farmacista del paese, no? Una persona in vista, no? All'epoca. Sì, e poi i poveri contadini che lavoravano, io ricordo più di uno, ma è venuta una persona una volta, un contadino con i piedi, si lamentava perché aveva i piedi sempre ammalati, allora si usavano scarpe fatte dal calzolaio, scarpe grosse, no? Se non posso sopportare... Si usavano attacci. Sì, ma non era questo il problema, chiedo scusa. Prego, scarpe decisamente chiuse, no? Sì, sì. E quindi il piede ne soffriva ed era un piede malato. Sì, è un piede malato. Lei improvvisamente fu ispirato a ciò? Sì, soprattutto sudore. E ricordo mio padre ha dato una medicina, mi pare acido tannico, qualcosa del genere, perché questo signore soffriva molto per il sudore. Io non sono medico, ma l'acido tannico a cosa serve? A restringere, per cui non passava il sudore, il sudore di meno. E allora mi è venuta questa idea, ma che cosa si può fare per evitare avere una scarpa chiusa e non soffrire questo? E quindi mi è venuta l'idea di fare, di ideare una scarpa con una ventilazione automatica, per cui pur essendo chiusa tutta la scarpa bastava muovere il piede per sentire il fresco. e mentre cammina in ogni passo c'è una certa quantità d'aria in base all'intercapedine che c'è tra la suola e l'altra parte che tocca il piede. E allora la scarpa è arieggiata, pure uno stivale in questo caso è arieggiato. E quanto ci ha messo a ideare tutto questo progetto? No, niente, l'importanza era avere l'idea. Poi piano piano maturava, per cui ho fatto costruire un paio di scarpe. Quindi fece il prototipo? Ora è andato smarrito. E da un calzolaio bravissimo, che era pazzo e rossano, e poi un mio amico... Il calzolaio no, la guardò un po' strano o no? Dice questo è pazzo. Sì, da principio sì, non credeva. Poi ho costruito questa scarpa in base a quello che dicevo io e l'ho presentata ad una mostra internazionale a Vigevano. Lì c'era un mio paesano, un mio paesano. E quindi abbiamo, tramite questo amico, ho trovato uno stand là per illustrare... Era già brevettato o no? Sì, sì, sì. Aveva già brevettato il tutto? Sì, era stata presentata la domanda di brevetto, per cui era quasi sicuro, no? E l'ho presentata la... E mi ricordo è venuta Sandra Mondaini, ancora conservo la foto di Sandra Mondaini che è venuta là a visitare questa cosa e domandavano tutti ma com'è questa scarpa, com'è? Io dicevo, poi è venuto un tedesco con un interprete e la voleva acquistare. Nel contempo le cose capitane... Lei gliel'ha vendetta o no? No, perché è venuto un altro italiano, no? Questi tedeschi, no, non vi mettete con questi tedeschi qua... È meglio tenerla da noi, abbiamo avuto una brutta esperienza. Lo facciamo noi qua, va bene, mi fa un contrattino, questo mi pagava percentuale. Per un certo periodo di tempo mi andava ogni mese quello che voleva lui, un assegno. Però non corrispondeva perché io avevo allora parenti a Milano che si informavano, tutti i negozi erano muniti con queste scarpe speciali. Sì, queste scarpe speciali. Quindi si vendevano tanto. Sì, si vendevano parecchio. Però succedeva una cosa, lui ne costruiva a bizzeffa, si vede, parecchie, perché capitava che una scarpa funzionava e l'altra no, quindi dipendeva dalla valvola. Un piede caldo, uno freddo. Sì, quindi all'inizio. E poi sono andato da questo tizio che, come, ci incontriamo domani, facciamo tutto qua, là, se avete ragione, vabbè, mi dà l'appuntamento per il giorno dopo. Io ci vado. E non esisteva niente più, la fabbrica, né lui, niente. Sparito tutto. Si è sparito tutto. Quindi poi vendete questo brevetto o lo si appropriò proprio Geox? No, niente, poi io non mi sono, io ero qua a Ferozzaro, un paesino nostro, sperduto. Cioè qualcuno gli copiò l'idea praticamente dopo? No, quello è continuato, non so se in America, in Africa, dove è andato a finire. Allora, nel mondo delle calzature è stata un'invenzione rivoluzionaria, perché? Perché in qualche modo poi una grossa azienda ha ripreso la sua invenzione e fece la sua fortuna. Sì, ma io non posso nominare... Lo dico io, la Geox. Comunque si vende in tutto il mondo questa scarpa, ho scritto pure alla Geox, ma questo è un mio brevetto, me non hanno risposto per niente. Beh, non gli conveniva forse, no? Questo è una sorta di pubblicità, no? Sì. Vorrei capire, come avviene questa reazione? Avviene perché tra la suola e l'altra che si chiama Calabrese Piantella, non so come la chiamano, c'è un intercapedine che resta sempre aperta, per cui sotto il tacco, a lato, in un altro posto, c'è una valvola. Sollevando il piede, questo intercapedine si apre, si allarga e aspira aria, per cui schiacciando il piede la valvola si chiude e tutta l'aria va sopra. Straordinario. Io voglio anche far vedere che brevetto numero 14.692 barra 36, questo 36 o 56, ci vedo anch'io male, questo è un numero identificativo importante, perché lei depositò questo brevetto nel 1957. 6. 56. 56. Sì, esatto, del 56. Sì, del 56. Ma non fu solo questo, lei inventò altro. Sì, ho inventato... Cos'altro? Sì, è molto... E allora, subito dopo c'è stato l'affondamento di una nave e allora io ho pensato, ma perché si affondano? Perché aveva avuto un urto. Una collisione a mare. Una collisione, esattamente. Allora ho fatto due brevetti e mi sono stati rilasciati tutti i due. Il primo era elettroautomatico, cioè dire elettricamente, e aveva delle antenne la nave che navigava, appena toccava un ostacolo, se era frontale si fermava perché si aprivano sotto due grosse ali per cui frenava la nave. Oppure se l'ostacolo era a sinistra, la nave girava a destra, se era a destra viceversa. Ma questo nel procinto dell'urto, oppure prima? Riusciva a vedere prima? Prima, prima, prima. Dopodiché... Sì, verso il 58-60. Subito dopo ho ottenuto un altro brevetto che era elettronico-balistico, cioè dire, l'ostacolo veniva segnalato elettronicamente tramite radar. Il radar agiva sotto, ma non più facendo aprire delle ali sotto la linea di galleggiamento, ma faceva esplodere delle cartucce, tipo razzo, delle cartucce che emanavano forza continua, come fanno i fuochi d'artificio. Ma servivano a cosa, ecco? Servivano a deviare la nave o a arrestarla, perché c'erano due davanti di questi razzi, diciamo. Se l'ostacolo poteva essere evitato a destra o a sinistra, agiva nel posto. E queste altre due idee furono realizzate o no? Non lo so, io subito dopo, appena ho presentato il brevetto, sei mesi dopo, ho sentito alla radio una notizia. Un ingegnere sovietico ha messo a punto un dispositivo così e così, ripetendo parola per parola il mio trovato. È vero che lei ebbe dei guai per questo? No, dei guai relativi, perché io ho scritto in Russia, all'ambasciata russa. Sovietica, all'epoca, un ingegnere sovietica. Sì, scrivo là, ho presentato un brevetto e adesso sentivo dalla radio italiana, perché io ho scritto pure alla RAI italiana che vorrei sapere e la RAI mi manda una lettera con tutto il bollettino che ha trasmesso quel giorno. In seguito a questo ho scritto all'ambasciata e l'ambasciata mi risponde, dice che è il nostro piacere poterla incontrare, se viene a Roma, io ci vado, era assieme a mia moglie. Mia moglie aveva paura, io ero passato a trovare Zenotti Bianco, che era amico di mio padre, che era venuto più di una volta in Calabria, pure a casa mia, a Ferruzzano sopra, a casa di mio padre, era venuto questo, Zenotti Bianco. E dice no, non andare per niente, perché queste ti fregano, non è il caso. Beh, io ci sono andato il giorno dopo, mi danno un appuntamento e sono andato in questa ambasciata sovietica, non mi volevano far uscire per niente con delle promesse d'addio. Mia moglie era venuta pure, però era rimasta fuori. Per l'Unione Sovietica lei era veramente appetibile, insomma. Ma non lo so, cercavo, non devo avere paura di nulla, qua e là, quello che vuole. Torno domani, ho detto io, no, ma ormai è qua, torno domani, no, ormai è quasi, quasi. Si è arrivati a brutte parole perché io volevo andare via, loro mi volevano trattenere, tutti i modi. Io sono andato via, poi c'era mia moglie, io dovevo andare a Milano pure. Ci tornò poi all'ambasciato o no? No, assolutamente. Ebbe paura anche lei allora? Mia moglie soprattutto ha avuto paura. Dopodiché siamo andate a Milano il giorno dopo perché c'era mio fratello, c'erano altre persone, siamo rimasti tre, quattro giorni e siamo ritornati. Il giorno dopo, siamo arrivati di sera a Ferrozzani, al mattino io dovevo andare a Reggio e è rimasta a casa mia moglie. Lì arrivano i carabinieri, due imborgesi accompagnati dai carabinieri. Cosa siete andate a fare all'ambasciata sovietica? No, poi hanno parlato con mia moglie, io presento questa mia moglie. Prego, prego, venga pure signora, venga qua. Lei ebbe paura quel giorno? Sì, ho visto un'atmosfera che non mi piaceva. Allora ho detto io... Intuito femminile, cosa ha visto? Non lo so, parlavano tutti in un'altra lingua logicamente. Ma poi non siamo tornati che siamo andati in un altro ministero dove c'era Zenotti Bianchi, amico di suo padre. E ci siamo andati per consigliarci se dovevamo andare o no. Cioè assolutamente non ritornare là perché soldi ti danno quanto vuoi, però poi sparisci tu con tutti i soldi. E quindi non siamo tornati all'ambasciata russa perché là gli promettevano che gli davano tutto quello che voleva. Senta, lei, avete parlato entrambi di un personaggio illustre, famoso come Zenotti Bianco. Che tipo di persona era? Io ero... non ragazzino, ragazzo, lo ricordo... Era sposato già lei? No, quando venivo a Ferruzzano, non mi ricordo se ero sposato, però venivo a casa nostra perché a Ferruzzano non ci stanno alberchi, non ci stanno niente. Venivo a trovare mio padre, erano amici, erano amici. Insomma, allora io ho approfittato di quell'amicizia per andare a trovarlo e ci aveva consigliato quello. E lei invece di Zenotti Bianco che impressora le fece? Non lo conosce? Zenotti Bianco andava a visitare tutti gli istituti di insegnamento che suo padre insegnava. Abbiamo un libro, Tra la perduta gente, scritto da Zenotti Bianco, che c'è pure suo padre in quel libro. Voi non ce l'avete? E' certo, che è un libro famoso, lo conosciamo un po' tutti questo, no? E' certo, parla di Africa. Allora, ritorniamo alle invenzioni. Allora, due per la nautica, molto importanti, che richiamano l'interesse anche dell'ambasciata sovietica. E poi invece, che cosa altro? Perché lei non è che ne inventò una, due, tre, tante cose. C'erano i frigoriferi, no? Un frigorifero sempre deve avere la corrente attaccata per conservare, eccetera. Mi è venuta un'altra idea, l'idea del sottovuoto. E ho ottenuto il brevetto per questo sottovuoto. Sottovuoto? Anche quello l'ha inventato lei? Sì, c'è il brevetto pure. E non solo... Che anno siamo con il sottovuoto, si ricorda? Ma mi pare... Prima del 60, 58, 60, non mi ricordo. Puoi usare il prototipo per il sottovuoto o no? Sì, anche quello. Il preside Maresca, del liceo scientifico di Locri, siccome eravamo parenti pure lontani, io sono andato dal preside e ho chiesto se mi poteva prestare una pompa pneumatica per fare... Io facevo sempre le prove per... Prima di ottenere il brevetto volevo fare tutto. E quindi ho fatto le prove e rispondeva esattamente. Se noi mettiamo della frutta... Si ricorda cosa mise sottovuoto la prima volta? Sì, ho messo dei fichi e si sono proprio asciugati e asciugati conservando tutti i caratteri organolettici, odore, sapore e... E quando li riaprì? Quanti giorni dopo li riaprì i fichi, si ricorda? Quando? Quanti giorni dopo riaprì i fichi? No, ma subito si aprì. Nell'immediatezza? Perché avevo fatto una specie di cassa in cui non passava aria, quindi ho tolto tutta l'aria da questa cazzetta e dopo i fichi erano... Se pesavano, che so, 100 grammi, pesavano dopo 15-20 grammi l'uno. E poi bastava immergere questi fichi, questi fichi, la frutta che si conserva in acqua normale e però si torna quasi come prima. Uno li può sbucciare, oppure dopo un anno mangia fichi freschi, insomma. Ha inventato tante di quelle cose e se ne sono appropriate spesso e volentieri altre aziende. E un'altra cosa dopo il sottovuoto? Lo Stato italiano fa pagare anno per anno la tassa di conservazione del brevetto, per questo no la perde. Eccolo qua, è arrivato il brevetto per mano di Ernesta. Allora, questo è il brevetto, titolare Marando Romolo Antonino, e c'è anche l'indirizzo di all'epoca, via arma CC7 Ferruzzano, Reggio Calabria, dispositivo per mantenere sempre fresca ed inalterata la frutta e procedimento per la conservazione di essa. Sarebbe il sottovuoto, e stiamo nel 1964, io avevo un anno, sa quando lei ha messo il sottovuoto. E poi dopo il sottovuoto cosa venne? Ma io non ricordo, ho fatto un sacco di cose, ho fatto per gli incidenti stradali un dispositivo che evita gli incidenti stradali dove c'è nebbia, un altro incidente precedente. La macchina che vede praticamente. La macchina che vede, sì. Ecco, descrizione dell'invenzione industriale avente per titolo dispositivo per ottenere un avvisatore elettroautomatico, acustico ed ottico di limiti di velocità sugli automezzi e sui treni. Questa è un'altra cosa, questa è sui treni. Questo c'è dire, se uno supera la velocità, che so, la legge stabilisce a 60 all'ora, se arriva a 61 si mette a suonare, la macchina nel contempo non va oltre. E viene utilizzato oggi anche nelle macchine, questo dispositivo? Non so se viene utilizzato. Ma dove trovava tutto sto tempo per inventare? Sì, ecco quello delle navi che abbiamo menzionato prima. Non avrebbe avuto un incidente? Ecco, questo è quello delle navi. Il brevetto per... Non riesco a leggere? Sì, lo leggo io, anche perché poi le inquadreremo. Allora, questo è dispositivo elettronico salistico, balistico, si legge, balistico per arrestare e deviare le navi in marcia in caso di pericolo invisibile evitando ogni sorta di collisione. È quello che praticamente ci ha descritto prima. Questi sono brevetti originali, attenzione, guardate, su carta bollata che si usava con tempo. Lire 200, questo è il numero 6121, 6.121 meglio, ed è il 59. Questa invece è l'escrizione dell'invenzione industriale a 20 per titolo, dispositivo elettroautomatico per arrestare e deviare le navi in piena velocità. Cioè quello era l'altro, quello che aprivano quelle pale sotto. Anche questo poi è cambiato qualcosa perché gli fanno fare anche un versamento. Assomiglia alla SIAE un po', ecco, questo è il Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato, che esiste ancora, del resto. Ecco, dispositivo elettronico di sicurezza per autoveicoli per evitare collisioni in caso di pericoli invisibili, nebbia, incidenti, ostacoli su strade ed autostrade. Insomma, la mente sopraffina. No, forse è la quiete che ci afferruzzano, che c'era ora, niente quiete più. È sparita la quiete, no? Questo è un posto, insomma, qui l'è a contatto col mare, con la natura, ogni tanto passa qualche treno per quelli che ci hanno lasciato. Esatto, sì, questo è vecchio pure. Questo è del 78, non è così vecchio, è tenuto forse un pochino male rispetto agli altri. Si ricorda quante cose hai inventato in tutto? Ma io ho ottenuto 10, 15 brevetti o forse più, non lo so, non ricordo con esattezza. Questa è la caffettiera, caffettiera automatica con avvisatore dell'uscita del caffè. Cioè quando esce il caffè la chiama, praticamente. No, niente. Siccome un tempo in Rai c'era quella famosa trasmissione Portobello, lei ci pensò ad andarci o no? No, no, ma io l'ho vista, vedevo spesso quella, ma mai ho voluto fare cose del genere, andare ad illustrare questo o quello no, assolutamente. È vero che non si sente ancora appagato, che quella sua mente vaga e inventa ancora qualcosa? Arrivano sempre delle idee che io scaccio continuamente perché non voglio fare più niente, ma arrivano delle idee molto chiare, delle cose utili all'umanità soprattutto. Ma non voglio fare più niente, anche perché ho una veneranda età. Lo diciamo? No, non lo diciamo. Siete vero che hai inventato anche qualcosa per il surriscaldamento della crosta terrestre? È vero, è qualcosa che riguarda il riscaldamento totale del globo terrestre, però qui c'è qualcosa da dire, è un rimedio per pochi anni perché la atmosfera è inquinata e quindi si pensa che questo surriscaldamento è dovuto a questo fatto. Allora io ho pensato di mandare via e riflettere la luce che arriva e c'è un rimedio sicuro, garantito al mille per mille. Però che cosa succede? L'uomo può fare tanto e non quanto, come si suol dire. Cioè dire, noi arriviamo ad abbassare la temperatura, quindi si evitano acquazzoni, alluvioni, tutto quello che sta succedendo si può evitare. Però per pochi anni, perché l'uomo nel frattempo arriverebbe sicuramente a risolvere il problema. Se il problema non dipende da fatti naturali, dal sole, o protuberanze, oppure macchie solari, allora in quel caso l'uomo non può fare niente come non ha potuto fare nulla nel passato, che ci sono state delle distruzioni, mammut e via di seguito. Ma come farebbe a raffreddare il pianeta lei? Sì, il pianeta, per esempio, è molto semplice. Arrivano i raggi solari, tant'è vero che noi nelle zone vicino all'equatore, le case generalmente sono bianche, costruite così, magari senza saperlo, ma sono bianche perché riflettono. Ora, noi, se sulle case di tutta la Calabria o di tutta la Sicilia, di una regione intera, o perlomeno la quantità di ghiacciaio che si è sciolta, noi la mettiamo a disposizione del sole, nelle zone più soleggiata, sui tetti delle case, tanto non costerebbe niente. Non ho capito bene. Mi spiego meglio. Allora, in Sicilia e in Calabria cosa avremmo dovuto fare? Come? In Sicilia e in Calabria cosa avremmo dovuto fare? Su tutte le case o spazi possibili mettere della stagnola, carta stagnola? Carta stagnola, o vetri, o materiale riflettente, e che succede? Che i raggi del sole, come arrivano, tornerebbero indietro, ma non tutti passerebbero. Arrivati ad una certa zona, e la porzione di questi raggi viene trattenuta, ma un'altra porzione va via, per cui il riscaldamento è relativo sulle terre. E questo fenomeno si chiama albedo. I ghiacciai avevano il compito, hanno il compito di riflettere questi raggi, per cui non tutto il calore resta sulla terra, ma una porzione se ne va. E quindi succede la stessa cosa. Quindi se noi sopperiamo i chilometri quadrati degli acciai che sono venuti meno, sopperiamo questo fatto con della stagnola, un materiale riflettente. Si riformerà, diceva, il ghiaccio? Sì, a parte del ghiaccio. Torneremo ad una temperatura di molti anni fa, dipende da noi, più mettiamo di questo materiale riflettente, più la temperatura si abbassa. Sempre, se non dipende, è tutto... Da un fenomeno naturale, diceva lei. È una cosa completamente diversa. Dall'aria o dalle protuberanze, che sono delle fiamme altissime, centinaia di chilometri. L'ultima cosa che ha inventato, qual è stata? Ma non mi ricordo, non ricordo. Non ricorda? No, non ricordo. Che cos'è questa? Tante... Io non leggo. Ancora invenzioni, credo. Uno dei pochi treni è arrivato adesso. Dispositivo marino per ottenere energia elettrica. Ah, sì, sì. E questo com'è? Questo è una turbina. Sfrutta la marea, cos'è? No, sfrutta la corrente marina o dei fiumi. È stata valutata molto bene. Ho delle relazioni grossissime, di centinaia di pagine, perché uno studia e si è presa la briga di studiare il funzionamento e il rendimento di questa turbina. È una turbina che si può mettere dove c'è corrente. Questa lei non la costruì però? La realizzò? No, sì, l'ho costruita pure. Anche questa? Ho messo in una vasca e... Funziona? Sì, funziona pure. Poi ho ottenuto... No, no, mi dica quanta energia ha fatto. No, io non potevo comisurare. Comunque girava. L'importante è che girava. E c'è un moto di conseguenza può produrla. Invece ho ottenuto di recente un altro brevetto per quanto riguarda il mare. Le onde marine. ottenere corrente dalle onde marine un albero motore e un albero di nave oscilla e quindi è stato costruito in modo tale da poter ottenere corrente elettrica. De fatti io avevo messo una dinamo ad un modello che avevo fatto questo dinamo che girava notte e giorno. Sì, sì. Ce ne sono così tanti che non... Ce n'è un altro. Allora, questo qua dispositivo marino per ottenere energie elettriche ne abbiamo appena parlato, no? Ah, questo è un altro? Questo è un altro. Questo è un altro e questo sviluppo corrente elettrica. Qua è venuta l'Enea a Ferruzzano a trovarmi quando ha saputo di questo brevetto e ha detto che va molto bene, eccetera, però non lo potevano mettere in Calabria perché hanno delle basi qua comunque che rendeva abbastanza bene. L'hanno realizzato l'Enea? Non proprio questo, uno diverso. Sì, che hanno loro. C'è, c'è, c'è. Ci hanno preso spunto però da lei. Non lo so. E poi c'è quest'altro, motore rotativo ecologico a combustione interna senza camera e di compressione con camera di scoppio composto da pochi pezzi veloce e di grande resa. Perché veloce e di grande resa? Vi dico subito, è un motorino che io ho costruito con pezzi di recupero al ferro vecchio, eccetera, come volano avevo messo un cerchione d'automobile. Non ha pistoni come gli altri motori. Un motore normale è composto da 2000 pezzi, valvole, valvoline, questa no, è come una forma di formaggio dentro una scatola per cui aspira idrogeno, non abbiamo parlato del motore di idrogeno che è importantissimo e ne parliamo adesso perché è un motore ecologico quello? Ma non è questo, sono due i motori. Ho fatto un motore a idrogeno trasformando un motore di automobili e ho fatto centinaia di chilometri sulle strade che non potevo perché sul libretto di circolazione c'è scritto motore a benzina. Le stavo dicendo che io avrei il piacere di avere il motore ad idrogeno scoppia e scarico come gli altri motori, no, niente, è un disco molto grosso di ferro con un involcro, tutto quello è il motore e va ed una velocità fantastica, non ha bisogno di camere di compressione, pistone, fascia latina, niente, valvo, non ha niente e quando va a moto non si sente il rumore classico del motore ma si sente un fischio e basta, il rumore è diverso dal rumore degli altri motori. Lei camminò con quella di idrogeno nella sua macchina? però lo fece. Facevo prove, delle prove ancora con... Quanti chilometri hai riuscito a fare? Ma centinaia, qua giravo a Bianco Povolino in questa zona ad idrogeno ad idrogeno sì 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 c'era un professore di chimica un po' incredulo di messina è venuto apposta e io sono andato a prenderlo alla stazione con la macchina che funzionava ad idrogeno e ho detto al professore stiamo camminando ad idrogeno povera moglie mia fa la croce dice saltiamo tutti in aria non saltiamo per niente funzionava non è così pericoloso come pensate? anzi è più sicuro perché la macchina a benzina è una bomba incendiaria che uno cammina su quella è una bomba incendiaria ad idrogeno no se c'è fuori uscita se ne va è leggerissimo quindi con la tizza adesso noi la storia la facciamo continuare in un altro modo perché tra un po' vi parleremo di rodriguez rodriguez è un armatore importante ma non parlo con lei di rodriguez io sai con chi parlo di rodriguez parlo con adele ernesta sua figlia lei vuole parlare di questa storia che secondo me è interessante perché lei ha i disegni bellissimi ho un contratto fatto con rodriguez però di questo non ne parliamo per niente mi fa un contratto io avevo detto che riuscivo a far sollevare di parecchio ecco è inutile parlare di questo a far sollevare di parecchio un aliscafo per cui a forza tre l'aliscafo non cammina più perché per Colosso sbanda a destra e a manca ho detto che l'aliscafo poteva marciare oppure con mare forza cinque forza sei e di fatti lui mi dice beh sì sono interessato venga qua mi paga un albergo un ristorante lei rimanga qui nel cantiere a disposizione con un altro parente suo pure che era ingegnere e si sparava con la pistola in giro non si faceva niente però lui voleva capire l'idea tanto che io ad un bel momento l'ho detto lui prima mi fa un contratto dopo quando l'ho spiegato sì va bene complimenti sì però non lo possiamo fare perché occorrono cinque anni per poterlo costruire ok vi saluto arrivederci tanta cosa meno sono venuto dopo l'ha costruito e io ho visto è uguale al suo sì quello che facevo io i cantieri navali è stato un po' ingenuo a fargli vedere alcune cose no niente allora che succede che lui costruisce questo questo aliscafo che si alzava di parecchi metri e lo dà e lo acquista la marina italiana ed è proprio il fiore all'occhiello della nostra marina italiana questo e di fatto sono passate qua sul mare Ionio una formazione di tre e in più mi hanno mandato la foto un mio parente che era in marina sapeva di questo agicino che io facevo di fatto una volta mentre facevo le prove scappa dall'acqua e va a finire in alto su un piccolo caseggiato perché non erano regolate bene siccome si forma un parallelogrammo di forza alle alette le alette non erano preparate bene e quindi scappa questo piccolo all'escafo e quindi niente dopodiché poi addosso a noi abbiamo la morte e poverino è andato via all'altro mondo mi spiace per lui ha detto no corrono cinque anni per costruirlo dopo due anni marciavano le faccio l'ultima domanda ha pensato a qualcosa per inventare qualcosa di nuovo no c'è qualcosa per la testa vengono spesso delle idee però io non voglio far riposare queste idee perché scaccio via perché sia perché ho una certa età sia perché per le idee non si ha età sono stato deluso da tutte queste cose qua io non è che pensavo fare queste cose per fare soldi e diventare ricco no lì facevo l'attestazione questo l'ho fatto io almeno quello ma io ho fatto tante cose che vedo che ho fatto io due donne l'altra volta mettevano sotto vuoto non so che cosa una di loro ha detto benedetto colui ha costruito ha inventato queste cose sai è uno di Ferruzzano quindi lo sapevano l'altra lo sapeva è di Ferruzzano sia di Ferruzzano eccetera eccetera non sono soddisfazioni che uno ha ma sono delle cose che capitano giuste così e sono contento di arrivederci buone invenzioni grazie allora siamo siamo entrati c'è anche Argo cane di Ulisse ma questo è il cane di Adele Adele Ernesta giusto Ernesta allora un papà facoltoso fa tante cose ne ha pensate tutti guarda adesso non mi lascia più stare guarda è difficile vivere con un padre del genere è bellissimo ma è molto difficile io sono cresciuto con un padre straordinario ed ho avuto un'infanzia molto particolare molto diversa da quella degli altri bambini perché avevo veramente pochi anni quando ha fatto il suo primo brevetto quello della scarpa che è data a 57 quindi io ne ho un vago ricordo ho trovato qui mentre voi parlavate una beh proprio un articolo dell'epoca che parla proprio un calabrese dico bene scarpa ventilazione inventati da inventati da un calabrese poi nel 59 ricordo che ha inventato questa specie di radar il dispositivo per far sì che le navi non non avessero collisioni incontrando degli ostacoli sott'acqua la famosa l'Unione Sovietica sì no quello sì sì ricordo che lui prendeva i nostri giocattoli i miei di mio fratello per smontarli e noi stiamo lì incantati a vedere che cosa stesse facendo non abitavamo qui però in quegli anni ma abitavamo a Ferruzzano Superiore che dista a 7 km da qui in collina a 470 metri di altezza però si vede il mare e quindi comunque la vista del mare di questo spazio infinito di questo meraviglioso panorama certamente erano anche anni diversi ma non è questo perché anche in quegli anni c'erano teste di cucuzza e la sua non è una testa geniale quindi sì ok la concentrazione quello che vogliamo ma credo che la genetica abbia il suo peso questo in tutte le cose ovviamente certo poi poteva prendere una strada buona una strada non buona ma lui è una persona uno studioso è una persona tranquilla insomma tranquilla 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 proprio no ogni tanto ce lo facciamo raccontare dalla mamma è una persona tranquilla sì è tranquilla allora arrivo io facciamo una cosa mi metto in mezzo va bene mi metto fra di voi ah perfetto sì facciamo così persona tranquilla suo marito tranquilla ma ho stenato nelle sue idee nelle sue cose ecco lei come ha fatto a stargli dietro dopo tutte queste invenzioni un pochino di pazienza ne ha avuta di pazienza sì tanto cosa ha pensato quando ha inventato una cosa strana no strana no io lo condividevo perché ne ero convinta di quello che lui diceva non erano stupidaggini senta questa questa vicenda di Rodriguez lei come l'ha vissuta? un pochino male perché? è perché io avevo intuito che quello voleva fare qualcosa di non si è sentita deofradata ma è andato con un suo cognato l'ingegnere buona vita si è fatto accompagnare da lui quindi si sentiva protetto è andato là è andato tutto è rimasto là fino a quando gli ha proprio spiegato tutti i segreti tutti i passaggi e poi ha detto arrivederci grazie una brutta pagina che dobbiamo fare infatti ogni volta che lui va a cercare un altro brevetto lo lasciamo fare chi lo tiene è come il vento quando cammina non lo ferma nessuno però delusione sull'islamo sopra queste la delusione grande è stata quando è arrivato un suo nipote mio cugino e tu sai zio che la marina americana ha fatto l'ha comprata poi la marina americana io ho questo ricordo perché è molto dell'87 non d'antichissimo ma parliamo di 35 anni fa qui abbiamo proprio il fascicolo intitolato rodriguez facciamo vedere questi disegni che sono bellissimi allora ministero interventi straordinari per il mezzogiorno c'era questa cartellina ecco e lui la carpi praticamente carpi i disegni il meccanismo mio padre è stato un grande idealista è un grande idealista anche mio zio poverino franco non poteva mai pensare e invece tutti e due sono stati molto ingenui e comunque ecco qui sono il carteggio le varie lettere che si sono scambiate e successivamente questo questo dispositivo ah sai io un ricordo da bambina di questo brevetto stavamo alla Ferruzzano Superiore vivevamo in una grande fattoria in una grande casa di mio nonno mia nonna ne aveva sparse perché insomma aveva delle proprietà e noi abitavamo in via Arma Carabinieri 8 che si chiamava via Arma Carabinieri perché era stata affittata proprio al comando dei Carabinieri alla caserma dei Carabinieri e poi loro andarono via e noi insomma per molti anni io avevo dieci anni ho abitato lì fino all'età di dieci anni questa grande casa aveva un piano sopra un piano sotto con le cantine il terreno eccetera e delle grandi vasche a un certo punto mio padre prende i nostri giocattini miei di mio fratello una piccola nave e sopra in alto c'era il palombaro il classico palombaro dove tenevamo le colombe e queste grandi vasche a un certo punto lui evidentemente non aveva dosato bene la potenza e questo piccolo l'iscafino è planato sul palombaro l'abbiamo preso in giro per anni per questa cosa qui però funzionava realizzò il prototipo in sostanza no io sai che sì però lo sai che io sto confondendo perché ne ha fatti talmente tanti questo qui non era quello di Rodriguez ma era quello del dispositivo delle navi perché parliamo degli anni dell'Andrea Doria e degli anni 59 58-59 questo invece è datato 87 ma sai mio padre ne ha fatti talmente tanti siamo talmente riferimento all'affondamento dell'Andrea Doria lui ebbe quest'idea quel dispositivo per non far urtare le navi in sostanza quindi io veramente tantissimi di quei ricordi che si si accavallano effettivamente anche le ho scritto un articolo sul mio radio civetta proprio su questo argomento dieci anni fa nel 2003 dissi a mio padre papà senti ma visto che tu hai un'esperienza straordinaria perché non mi scrivi non scrivi per me una sorta di di memoriale su come sono nate le tue le tue idee avevi solo 29 anni nel primo brevetto lui aveva 29 anni parliamo del 57 e quindi lui è del 28 ecco là allora lui ancora ci vedeva pensa che è stato lui a insegnarmi il computer mio padre è stato anche precursore in questo appena uscito il computer lui immediatamente parla con tutto il mondo io so che lo usa quotidianamente lo usa quotidianamente poi è un radioamatore quindi parla con tutto il mondo è una persona straordinaria nel senso per quanto riguarda la comunicazione è un è un esempio brillante allora parliamo adesso papà come persona no? che tipo di papà è? mio padre mio padre è una persona che io amo molto e siamo simili ma siamo anche diversi naturalmente c'è questa grande affinità che io trovo no? anche complicità fra voi due in qualche cosa tra mio padre e me c'è molta complicità e c'è anche un rapporto molto paritario è una persona molto molto intelligente molto comprensiva molto buona onestamente io al suo posto non so cosa avrei fatto vedendo che ogni mio brevetto viene utilizzato dagli altri secondo me guerra è fuoco perché tu hai un carattere un po' diverso un pochino più bellicoso lui è un po' come suo padre per certi aspetti perché ognuno di noi poi è diverso suo padre Francesco Attilio Marando tu hai dedicato una puntata di radice sul terremoto di Ferruzzano del 1907 sul libro le memorie ricordo questa scrittura bellissima descriveva minuziosamente tutto mio padre guarda puoi prendere tu quel libro che io ho messo là sopra? lui non l'ha mai voluto pubblicare ma mio padre ha scritto questo splendido libro Ferruzzano fatti e persone dell'ultima metà del 1900 ed è un libro un po' che ricorda il modo di scrivere di suo padre di mio nonno e comunque per quanto riguarda per quanto riguarda il nostro rapporto devo dire che lui certe volte che vuoi io sono una donna quindi una ragazza molti anni fa del sud doveva in qualche modo stare entro certe briglie ma devo dire che mio padre non mi ha mai sì è chiaro doveva fare il gioco delle parti però in realtà se faccio quello che faccio se sono una persona libera se non ho paura di niente è perché mio padre e mia madre insieme due teste dure comunque però mi hanno insegnato che bisogna essere leali che bisogna essere coraggiosi che bisogna essere onesti che non sono i soldi quelli che contano assolutamente ma conta quello che nessuno ti può togliere mai questa è una mia ferma convinzione te stesso aspetta un attimo che poi ti devo fare un'altra domanda sulla tua vita recente però voglio trovare un attimo alla signora perché gli vorrei chiedere una cosa ma in fondo in fondo chi è più ribelle suo marito o sua figlia? non trovo differenza ma forse sono alla pari quindi carattere assimilato pienamente dal papà da questo punto di vista siamo tutti un po' così ma è quello che ho insegnato io ad essere liberi soprattutto torno a te sai perché? perché vorrei che tu mi parlassi adesso esuliamo dal discorso che stiamo facendo sul papà io volevo parlare anche qualcosa di te tu hai avuto un incontro straordinario con una persona straordinaria che io in questi primi giorni di pontificato adoro com'è il papà Francesco? sì io ho avuto il privilegio di conoscerlo direttamente di stringergli la mano e devo dire che ero talmente emozionata al momento che non mi ricordo niente di quello che lui mi ha detto qualcosa perché io da qualche anno lavoro al dispensario prima ero un medico ospedaliero lavoravo al San Camilo sono una pediatra neonatologa psicoterapeuta tante cose perché amo molto il mio lavoro anche la giornalista sì ma c'è anche la giornalista quello che faccio lo faccio con passione e quindi mi riesce diciamo perché quando le cose si fanno con passione e si fanno con amore riescono quasi sempre e così io lavoro prima che arrivasse Papa Francesco a Santa Marta al dispensario pediatra ecco perché perché lui ci dorme a Santa Marta lui vive ha scelto di vivere a Santa Marta quindi il nostro vicino di casa del dispensario praticamente c'è il palazzo dove c'è il dispensario dove c'è il seminario internazionale e dove c'è l'edificio la Domus di Santa Marta che ha che vicino di casa è è fantastico perché perché mi sono distratta un attimo ho sentito queste caramelle mi sono un attimo distratta e che vicino di casa è guarda beh non ti posso dire che io l'abbia incrociato nei viali del Vaticano però allora intanto ci invia come anche il precedente pontefice devo dire Benedetto XVI invia dolci regali per i bambini perché ci sono vengono i bambini poveri io sono pediatra lì c'è questo dispensario dove noi volontariamente gratuitamente prestiamo la nostra opera siamo dei fortunati diciamo la verità diamo il nostro tempo ma è molto di più quello che noi riceviamo di quello che noi diamo e allora ecco per esempio l'altro giorno Sor Antonietta che è la caposala del dispensario ci ha tenuto da parte la colomba che ci ha mandato il santo padre per Pasqua perché il dispensario era chiuso perché dovevano fare le elezioni e pertanto era il 31 marzo qualche giorno prima è successo insomma abbiamo mangiato questa meravigliosa colomba e poi con i suoi segretari che vengono da noi vengono i cardinali insomma voglio dire è una cosa incredibile strana perché effettivamente non eravamo abituati anche perché ci sono dei protocolli rigidi giustamente c'è una sicurezza che funziona molto bene è uno stato estero e dunque sì noi entriamo da una porta non dico quale porta perché chi sta lì lo sa da una porta che entra nella città del Vaticano sempre presidiata dalla macchina della polizia adesso ci sono due macchine della polizia dentro e transennate il palazzo di Santa Marta mentre prima no le guardie svizze insomma certo è aumentata è aumentata la sicurezza però ci sembra una cosa è una cosa particolare io il 20 di aprile lui ha fatto una messa per noi volontari di Santa Marta e per un altro gruppo c'erano degli argentini noi volontari dove appunto ho avuto l'opportunità di stringergli la mano di parlare con lui e lui quando è stato quando è diventato Pontevice avete detto mi avete scelto dalla fine del mondo io due anni fa tre anni fa andai alla fine del mondo in missione proprio in Perù in Bolivia contro assolutamente l'opposizione totale della mia famiglia perché è spaventata però io sono partita da sola mi sono fatta il biglietto però lì mi accoglieva mi aspettava una comunità religiosa e poi nelle favela si faceva il mio lavoro di medico e mi ricordo scrissi una lettera vi scrivo dalla fine del mondo la frase perché effettivamente è la fine del mondo lì però che cosa posso dire di quell'esperienza e di quello che percepisco in questo Papa Francesco perché io l'ho vissuta personalmente sono stata quasi due mesi in Perù e Bolivia nelle favelas quindi sulle Ande peruviane che cosa ho percepito una bontà immensa si percepisce proprio nonostante sia zona di droga perché lì insomma voglio in Bolivia specialmente per uscire da lì è stato un incubo perché io non pensavo di tornare i controlli Criminal Poll Interpol cani antidroga fin anche dentro l'aereo una cosa cioè chiunque ti può mettere magari una bustina perché tu sei una persona irreprensibile sei fregato pertanto veramente da questo punto di vista certo c'è paura però quello che percepisci nelle persone nell'atmosfera nonostante l'immensa povertà è una bontà è un grande senso religioso c'è un po' nel sorriso di Bergoglio questo no? sì c'è io questo questo proprio l'ho percepito tra l'Europa o che vuoi l'America parlo di Stati Occidentali e invece l'Africa o il Sud America dove io sono stata per questa mia ti faccio l'ultima domanda percepisci anche tu che sta per accadere qualcosa di straordinario e di forte alla Chiesa sì guarda io sono cattolica praticante io credo io ma credo nella persona non è una questione di credi religiosi chiunque abbia un credo che sia cattolico cristiano che sia buddista che sia islamico non ha nessuna importanza noto che adesso c'è questa si sta incominciando ad avvicinare ci si avvicina più a un integralismo cioè a un'integrazione a un'integrazione mi correggo tra le varie religioni perché in realtà quello che conta è la centralità della persona quello che conta è la centralità di noi mi riferivo più specificatamente all'avvicinarsi agli ultimi cioè alla fine del mondo a quelle che vengono dalla fine del mondo sì è vero questa sobrietà che è arrivata guarda voglio dirti una cosa da un anno io frequento a Roma per mia scelta un giorno sono andata proprio da un padre che frequento a Vaticano un sant'uomo veramente che mi ha presentato mia sorella Luciana che lo conosceva da anni e gli ho chiesto ma padre Gioele perché io devo andare a fare volontariato alla fine del mondo ma qui non posso andare io vorrei dare il mio aiuto perché io sono andata via dall'ospedale molto arrabbiata io potevo rimanere io ho dato le dimissioni dall'ospedale perché la sanità aveva ridotto le persone a numeri noi a noi sanitari a funzionaria quello che ha detto tra l'altro padre e papa Francesco non siate funzionari siate pastori e noi anche se siamo medici non possiamo essere funzionari burocrati la sanità la salute non può essere non può essere quantificata al budget bisogna avere una giusta gestione che ci sia una giusta gestione su questa storia e qua ci sarebbe tanto da parlare perché la sanità è un'azienda straordinariamente appetibile per chi vuole fare i soldi torniamo a padre Francesco se no non usciamo più meglio papa Francesco ah sì allora papa Francesco ecco io ti dico che con papa Francesco sto da un anno in una comunità religiosa alla fine del mondo di Roma che è Torbella Monaca alla parrocchia di Santa Rita dove ha aperto un centro di ascolto lì c'è veramente c'è veramente quello che dice papa Francesco gli ultimi ma non perché siano gli ultimi in realtà perché è una periferia come tutte le periferie come anche la Calabria al sud adesso mi voglio agganciare alle periferie dunque quello che mi colpisce molto di questo di questo papa che non si stanca di dire in fondo è da pochissimo tempo però ha fatto passare il messaggio che dobbiamo spendere bene la nostra vita non dobbiamo non dobbiamo dire ma chi me lo fa fare usare il classico buonsenso ha proprio detto così nell'Angelus nella messa a cui io ho partecipato siate pastori non siate funzionari non pensate chi me lo fa fare tengo famiglia non ho detto tengo famiglia perché questo è un detto romano diciamo italiano però spendere la propria vita per un giusto ideale per una giusta causa non avere paura di niente perché la vita in fondo è Gesù in fondo è rimasto solo perché ognuno dice sì però Gesù è andato sulla croce ma Gesù ci ha insegnato che la vita è sacrificio la vita è difficoltà ma è non mai rinnegare le nostre origini e mai abbassare la testa e chiedere sempre che siano rispettati i nostri diritti i diritti umani la dignità umana questo è quello che mi passa Papa Francesco e che passa credo a tutti e che io condivido Luciana fa l'avvocato il rapporto con sua sorella è bellicoso direi di sì in quale occasione praticamente io so che avete un carattere opposto sì fa molte cose a differenza del mio carattere senti l'adorazione verso tuo padre è uguale come la sua sì sei attaccata quanto lei tu sì lo dimostro sì anche se abbiamo un carattere uguale queste invenzioni ti hanno un po' fatto pensare che mente può avere tuo papà molto ha una mente giovane ha molte idee finisce di di fare un'invenzione subito ha già pronto un'altra invenzione cioè non finisce mai di stupire non finisce mai sono le piccole storie quelle che non fanno rumore che poi cambiano gli uomini che gli attraversano il cuore quella donna e quell'uomo divorati dal blu è un amore davvero se sai dipingerlo tu inventi le mie forme lo stile è quello tu poso per ore davanti a te mi dipingi di sole anche se non c'è a un tratto trovo me trovo me trovo me che inventi lo sogni sono sempre io mi sento dentro te lo stile lo stile lo stile lo stile il mondo la genuinità la genuinità a casa tua mammola funghi gusto unico inimitabile senza conservanti e aromi solo naturali mammola funghi non è solo funghi ma un'infinità di preziose antiche ricette artigianali anche prodotto suggerato al naturale in grosso e dettaglio mammola funghi infoline 320 232 4501 www.mammolafunghi.it gusto a volontà grazie